Per portare a casa il risultato, grazie alla gara del ritorno abbiamo fatto il massimo per portare a casa la qualificazione. Sì, ci ho provato, è andato un po' male, speriamo meglio nei prossimi giri, questa è un'occasione che mi avrà andato. In queste competizioni qua, che secondo me sono sempre importanti, trovo spazio di magari in campionato o giocatomia. Noi ci siamo sempre applicati nel modo possibile e sì, è una bella soddisfazione arrivare in finale, anche in questa competizione, comunque una competizione nazionale.